carissimi amici del canale youtube dentro la notizia oggi sabato 12 giugno si è tenuto un nuovo e grandioso motoraduno organizzato dal presidente del brasile jair bolsonaro il corteo di motociclisti festosi è partito dalla città di san paolo e percorrerà circa 100 chilometri bolsonaro ha detto che il motoraduno è anche per la libertà della popolazione in quanto si è dimostrato assai critico nei confronti delle misure di distanziamento sociale degli stati che stanno causando una grave disoccupazione bolsonaro ha affermato che la previsione era di 100.000 bikers la deputata federale carla zambelli ha dichiarato che il guinness book stava osservando l'evento che potrebbe essere il più grande della storia le ultime ore però hanno visto altri importanti avvenimenti su cui vorremmo riflettere assieme ai nostri cari amici brasiliani il vice presidente emilton murao ha dichiarato venerdì 11 che il presidente jair bolsonaro e il ministro dell'economia paolo gedes hanno autorizzato lo svolgimento di una nuova operazione con personale militare delle forze armate per combattere i crimini ambientali in amazzonia secondo deputato sono stati stanziati 50 milioni di real per l'operazione law and order guarantee nella regione l'azione si è resa necessaria a causa dell'aumento della deforestazione nella regione secondo lui l'operazione dovrebbe durare due mesi e iniziare la prossima settimana come ogni settimana il presidente brasiliano ha condotto una conferenza informale con alcuni dei suoi ministri che viene trasmessa attraverso i social network dove tra l'altro risponde alle domande dei cittadini provate a immaginare se la stessa cosa accadesse da noi comunque questo giovedì una delle consultazioni è ruotata attorno alla controversa affermazione di alberto fernandez il quale ha affermato che i brasiliani vengono dalla giungla e gli argentini sono invece discesi dalle barche in riferimento alle origini europee bolsonaro che aveva già risposto ironicamente con una foto insieme a membri dei popoli nativi dell'amazzonia è tornato ad accusare non solo il suo omologo argentino ma anche il dittatore venezuelano nicolas maduro bolsonaro ha aggiunto credo che per maduro e fernandez con tutto rispetto per il popolo argentino non esiste un vaccino che curerà il socialismo bolsonaro era accompagnato dal suo ministro del turismo gilson machado neto a cui è stato chiesto un parere sull'episodio sono molto orgoglioso di essere venuto dalla giungla sono molto orgoglioso di avere il paese che ha la foresta più preservata al mondo ha risposto il funzionario tuttavia bolsonaro ha chiarito che la rivalità con l'argentina è solo calcistica e che al di là delle questioni sportive siamo fratelli voglio il meglio per l'argentina perché alla fine quando abbiamo vicini prosperi è un bene per tutti ha riflettuto sempre su questa linea ha sottolineato che il popolo argentino è meraviglioso e che i brasiliani argentini hanno molte attività in corso nell'ambito del mercosur quindi ha continuato con le battute ironiche e ha chiarito che ha preso i detti di fernandez come uno scherzo con un sorriso ha chiesto al suo ministro vieni dalla giungla dov'è il grido di tarzan fai vedere il grido di tarzan che dire la battuta di fernandez presidente argentino amico di soros più che infelice denota una vena di razzismo tipica dell'elite che dominano il mondo veri e propri odiatori del popolo infine il presidente ha tenuto un discorso sulla necessità o meno di utilizzare le mascherine per le persone che sono state vaccinate o che hanno già avuto il covid discorso che è stato contestato nella commissione parlamentare di inchiesta sulla pandemia dai senatori randolf rodriguez e umberto costa il ministro della salute massero cheiroga che in commissione si era comunque dichiarato favorevole all'uso delle mascherine ha tuttavia affermato che il presidente ha chiesto solo approfondimenti scientifici sull'argomento sarebbe stato un primo passo per fare ufficialmente luce sulla controversa questione la dimostrazione che la cabala che domina il mondo su certe questioni non è interessata ai pareri scientifici prima di concludere volevo ringraziare gli amici della bif international una delle innumerevoli piccole e medie aziende del made in italy di successo che consiglia prenda 2 il primo integratore che associa in un'unica soluzione quattro vitamine fondamentali vitamina d3 a k2 e vitamina c queste vitamine insieme contribuiscono al corretto funzionamento del sistema immunitario e all'attivazione del ciclo del calcio che è fondamentale per la salute delle ossa e del sistema cardiovascolare la bif quando ha saputo che youtube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani carissimi amici del canale youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo senza il vostro aiuto di cui vi siamo profondamente grati non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione per essere avvisati sull'uscita dei nostri video potete iscrivervi al canale mettere un like attivare la campanella e condividere i video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro robin